Con 246 contro 485, la Puglia è la seconda regione dietro alla Campania ad aver fatto registrare nel 2013 il maggior numero di furti di auto a noleggio. Le dà notizie all'Associazione Nazionale Industria dell'Auto a Noleggio e Servizi Automobilistici, ANIASA, in una nota, nella quale è detto che il trend è in crescita al sud e che se non cambierà nei prossimi mesi saremo costretti ad abbandonare le località a maggior rischio. Lo scorso anno i furti di auto a noleggio a breve termine sono cresciuti in Italia di quasi il 40% rispetto al 2012. Ogni giorno oltre tre auto vengono sottratte alle aziende del settore. Il danno economico complessivo supera i 20 milioni di euro e nei primi mesi del nuovo anno il trend sembra addirittura in ulteriore crescita. La Puglia è la regione che lo scorso anno ha registrato una maggiore crescita del fenomeno, addirittura più 64%. Tutto ciò accade, insiste ANIASA, senza che le istituzioni centrali e locali riescano a contrastare il fenomeno più volte segnalato dall'Associazione e rischia di costringere i grandi operatori multinazionali e nazionali del noleggio a breve termine a ritirarsi da aree strategiche per l'offerta turistica del nostro paese, mettendo a rischio oltre mille posti di lavoro in Campania, Puglia e Sicilia. Grazie 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 Grazie